Sono 187 gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico Statale Renato Cottini e Aldo Passoni di Torino e Felice Faccio di Castellamonte che si sono recati a Gassino per partecipare alla prima edizione del premio Chiesa dello Spirito Santo, un riconoscimento dedicato all'importante edificio, splendido esempio di barocco piemontese. Un premio pensato e strutturato dalla Proloco Locale, la Confraternita dello Spirito Santo e le associazioni Amici del Calcare di Gassino e Allievi Licei Artistici. Terminata la prima fase, nella quale gli allievi e le allieve hanno elaborato i loro progetti, inizia ora la seconda parte, quella forse più interessante, l'esposizione dei lavori. Alla segreteria del premio sono giunte 26 opere per la sezione architettonica, 16 per quelle pittorica e 5 per quella scultore. Alla giuria, composta dal pittore Francesco Capello per la sezione pittura, allo scultore Fabio Viale per quella scultura e all'architetto Cesare Roluti per quella architettonica, il delicato compito di decretare i tre lavori vincitori per ciascuna sezione. Tutti i lavori saranno esposti nella mostra che inaugura sabato 6 aprile alle ore 18 e che resterà allestita sino al 28 aprile nei locali di Corso Italia 38 a Gassino. Ero molto curioso di vedere come dei giovani, dei ragazzi, avessero potuto interpretare un soggetto del passato, quale la Chiesa dello Spirito Santo. Ciò che mi è piaciuto è stato il fatto che nei loro progetti c'è stata coerenza con quella che è l'architettura, con quelli che sono i materiali, i colori di questo luogo. E molti di questi progetti tengono in considerazione questi aspetti. Mi fa piacere vedere una bella partecipazione da parte di questi alunni sia da un punto di vista pittorico sia da un punto di vista della religione e di quello che vuole rappresentare la Chiesa del Santo Spirito. Per cui è stato molto arduo e difficile scegliere, però purtroppo si deve scegliere e spero di aver fatto una scelta più appropriata. Ma voglio dire che tutti i lavori meritano di essere visti e meriterebbero di essere premiati tutti, però non si può premiare tutti. Quindi un mio applauso a tutti questi studenti, augurandogli a tutti un futuro radioso.